Colpo di notte tra sabato e domenica le casse automatiche del parcheggio multipiano davanti all'ospedale San Donato di Arezzo. Sono state portate via poche centinaia di euro, forzate anche le casse del parcheggio baldaccio. In questo caso però i ladri non sono riusciti a portare via le monete. Nella notte tra sabato e domenica c'è stato questo episodio che per nostra fortuna non è stato grave dal punto di vista del prelevo di denaro, sono poche centinaia di euro. Sono semmai i danni ragionati che sono abbastanza pesanti, che creano dei disagi per l'utenza anche se il personale ha praticamente rimesso in funzione su tre casse, perché anche questa del bandaggio è stata forzata nella parte alta, e di tre casse probabilmente due torneranno a funzionare in tempi rapidi. Una abbiamo già chiesto subito l'intervento dei tecnici per sostituire molte delle parti. Avevamo messo queste blindature che ci sono qua, che hanno funzionato, quindi hanno impedito che venisse aperto, quindi prelevato anche il residuo, e purtroppo hanno fatto questo scasso della parte qua che riguarda l'introduzione del denaro, e sono identiche anche quelle del parcheggio dell'ospedale, e li hanno preso praticamente quelle con qualche centinaia di euro che stavano lì, quindi poca roba di furto purtroppo il danno è piuttosto importante. Al di là delle entità del furto dovranno essere riattivate le casse automatiche, un danno superiore al denaro prelevato, anche se l'ATAM conferma di essere sotto copertura assicurativa. Purtroppo quello è un danno importante, noi siamo assicurati, quindi diciamo questo sarà parte della parte assicurativa, però il danno è importante da un punto di vista economico, ancora non lo so quantificare, ma diverse migliaia di euro per macchina, quindi hanno fatto veramente una grande, una grave, e la cosa più grave ancora è il disservizio, soprattutto nell'ambito dell'ospedale, dove la parte è molto sensibile, in questo senso comprendiamo, infatti il nostro impegno è per risolvere tutta la problematica immediatamente, nel più breve tempo possibile. Hanno fatto un grave danno alla comunità.